Sì, ma sai, la settimana la vivi sull'euforia, ma per noi era già finita la sera, doveva finire la sera, o quantomeno l'indomani mattina, perché già dovevamo pensare a questa gara che ha le sue insidie e le sue difficoltà. E' logico che questa vittoria ha fatto un rumor importante a livello mediatico, non solo regionale o provinciale, ma a livello nazionale, e questo fa piacere, ha sottoscritto come tutta la società, però era subito resettare, il mio lavoro in questi 3-4 giorni è stato quello, fare da pompiere più che mai, perché meno male che è arrivata la pioggia, non c'è bisogno che lo faccia io, di spegnere immediatamente questi fuochi che purtroppo, che inconsciamente e mancabilmente vengono fuori, ma assolutamente abbiamo già una prova difficilissima contro una squadra in salute, perché l'ho vista, e questa è per l'ennesima volta, possiamo dirlo, una prova importante per tutti, perché insomma, se in passato, un passato recente, ha dimostrato che questa squadra purtroppo nei momenti in cui doveva fare il salto o dopo prestazioni importanti non lo faceva, adesso siamo tutti sotto esame nel capire cosa vogliamo fare da grandi. Assolutamente, quindi in questo momento, soprattutto in queste partite, lo dico io che sono allenatore, quindi essere belli e brutti mi interessa veramente poco, perché mancabilmente troverai poco spazio, mancabilmente non sarà facile, e quindi in questo momento voglio l'efficacia, la certezza nel sapere cosa fare, nell'avere la prestazione, quando è la prestazione sappiamo che può essere non positiva sotto l'aspetto tecnico, ma c'è una prestazione ottimale sotto l'aspetto nervoso mentale, e quindi dobbiamo fare un tipo di prestazione del genere per ottenere un risultato positivo. Indipendentemente dalla gara fatta bene, è vero che devi pensare a questa, quindi dopo aver speso energie nervose, fisiche, cioè poi dovevi anche cambiare, eventualmente, ma infatti è in base a quello. Per me la partita di domani ha un'importanza maggiore di quella col Parma, perché è più difficile dare le giuste motivazioni. Ecco che domani è una partita veramente di una difficoltà estrema, per quello che dicevo, sia per motivazioni, e allora capisci se è diventata grande, e sia anche per qualità dell'avversario, è assolutamente un avversario tosto e non male. È una buona squadra, è una squadra che ha iniziato magari tardi per i motivi loro, quindi hanno assemblato la squadra strada facendo, e ad oggi è una buona squadra, assolutamente una buona squadra, perché dal vivo, quando li vedi ti danno sempre delle sensazioni, è una squadra combattiva, una squadra che non molla, come il loro allenatore, in panchina non smette mai di gridare, e abbinano anche della buona qualità, ma questo frutto anche di giocatori importanti, perché insomma, se dovessimo fare qui la lista da Coser, Gavazzi, Scrosta, Zaffagnini, Loviso, o i due centrocampisti, Virdis davanti, Gonzi, che è uno, insomma, mi avviso uno dei giocatori più importanti di questa categoria, purché sia un 94, quindi è vero che è una squadra che sta facendo bene partita tardi, ma è anche vero che hanno allestito alla fine una squadra, direi, buona, competitiva, sì.